Oggi siamo qui per dare il nostro sostegno a questo bellissimo evento di connessioni, l'Edo Tourne a Vixa. Da sempre, oltre a creare un network di professionisti del settore dell'audio-video e dell'esperienza integrata, crede molto in ciò che è la formazione. La formazione dei professionisti e non solo. Quindi anche crede nel poter fornire a chi si occupa più da vicino di formazione e agli studenti veri e propri, tutti ciò che sono i mezzi necessari per fruire dello studio anche con le tecnologie più avanzate. Il nostro intervento di oggi parlerà principalmente di come con queste tecnologie e ciò che riguarda più la formazione classica si può avere accesso a quella che noi chiamiamo l'exceptional experience, cioè che anche l'approccio allo studio possa non essere un semplice e magari più noioso studio mnemonico, ma una vera e propria esperienza.